Per non dimenticare mai il memoria Enzo D'Angelo e Giulio Travaglio il 9 settembre sul porto di Baia. Una due giorni di eventi che partirà in questo caso dalla Circolo Canottieri e che poi arriverà al porto di Baia. Senza dimenticare il Palo di Sapone, sempre nella memoria di Enzo D'Angelo e Giulio Travaglio. Ecco la presentazione dell'evento con Doni D'Angelo. Quest'anno, finalmente, grazie sempre al grande impegno di Peppe, mio fratello e la figlia Alessia, siamo riusciti a inserire in questa manifestazione che prevede partite di pallannuoto, prevede il miglio marino, molto probabilmente un'esibizione di nuoto sincronizzato, ci sarà finalmente il Palo di Sapone. Una di quelle manifestazioni popolari che comunque avvicinano tante persone allo sport. Possiamo dire che la memoria deve restare sempre viva e soprattutto perché una grande partecipazione negli scorsi anni ha permesso a questo memoria di diventare un vero e proprio cult nelle prime settimane di settembre. Allora, Peppe fa sempre di tutto e vi posso assicurare che l'impegno per organizzare un evento del genere è veramente tanto. Però lui ci tiene tanto, noi famiglia ci teniamo tanto e faremo sempre di tutto per cercare di fare questo evento. Allora, ricordiamo un po' tutte quelle che sono le date e soprattutto un po' gli orari per quanto riguarda la memoria. Allora, ci sarà una prima fase il giorno prima, il venerdì 8, in cui ci saranno delle partite, quest'anno il torneo di pallannuoto sarà Under 16 e praticamente ci sarà il Posiglipo campione d'Italia, ci sarà l'Acqua Chiara, ci sarà il San Mauro e verrà la squadra di Treviglio guidata da nostro nipote Ghetano. Dopo queste due partite che ci saranno nel pomeriggio, a partire dalle 17 al Circolo Canottieri, ci sarà un evento in cui abbiamo cercato di far venire tutti i vecchi amici di Enzo, tutti i vecchi pallannuotisti di un certo livello, quindi ci sarà una bellissima partita tra vecchie glorie e dopodiché, come la pallannuoto prevede, ci sarà una bella mangiata per tutti. Il giorno dopo invece, a partire dalle 16 e 15, ci sarà la finale del torneo Under 16, dopodiché ci sarà questo famoso palo di sapone, poi partirà la gara di nuoto sempre per ricordare il grande amico Travaglio, ci sarà la finale per il primo e secondo posto del torneo Under 16 e ripeto, molto probabilmente ci potrà essere anche un'esibizione di nuoto sincronizzata a mare che anche questa è una novità.